buongiorno a tutti come va questa mattina qua la situazione sinceramente come inizia non c'è male pari pari letteralmente a zero abbiamo visto un colombaccio in lontananza e questo è stato questa mattina ormai sono quasi la 9 siamo quasi quasi ritorniamo ritorniamo a casa comunque vuoi che mi raccontate stamattina eravamo venuti ad insidiare il colombaccio con il calibro 20 con un franchi alcione s tipo america c'eravamo premoniti allungandoci anche di 10 cm arrivando a 76 2 ed 1 di strozzatura e queste ma alla fine non è servito a nulla di soliti questi strozzatori sempre lunghe le usiamo per quando quando andiamo a farci un giro al piattello voi che mi raccontate come procede la situazione